Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere un trucchetto semplice semplice per resettare la password di root di un qualsiasi sistema linux partendo da grab e in effetti mi chiedo come mai non ve l'ho fatto vedere prima perché è un trucco vecchio come il cucco siete davanti al menu di grab anziché dirgli ok file boot in questo caso di ubuntu premiamo e edit e ecco che qui vediamo tutte le opzioni di boot che sono state impostate da grab ora noi andiamo su questa riga qua quella che contiene ro quiet splash non so se notate ro quiet splash che poi va a capo e continua qua quindi io comincio a cancellare tutto quello che c'è dopo ro quiet splash cancello anche queste righe scrivo rv init uguale slash bin slash bash e poi ctrl x per fare il boot ora il sistema farà il boot in modalità testuale però la cosa bella è che senza alcuna password siete root tadan qmi per sicurezza root e qui posso resettare la password di root passwd root nuova password password changed successfully perfetto a questo punto riavviamo la macchina facciamo il boot normalmente e inseriamo come login la password che abbiamo appena impostato veramente veramente easy e allora vi starete chiedendo ok questo è veramente comodo ma è anche una gravissima falla della sicurezza no non è una falla della sicurezza è che come vi dicevo linux è sicuro si può essere più sicuro di windows si solo se lo sapete configurare se voi lasciate un linux non configurato possono succedere cose spiacevoli e poi questo comunque è un linux desktop quindi serve l'accesso fisico alla macchina e bisogna avere alla portata di mano grab però cosa posso fare io come utente con linux desktop e grab per evitare che un qualunque stronzo mi vada a cambiare la password ebbene possiamo mettere una password nel menu di grab possiamo mettere una password che impedisca il cambiamento delle impostazioni di boot senza prima averla digitata quindi in ulteriore sicurezza e quindi non è più possibile resettare a muzzo le password degli utenti in fase di boot cliccate tipo qua al centro da qualche parte per vedere come mettere la password a grab cliccate tipo qua al centro da qualche parte per vedere come mettere la password che è già 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 Grazie a tutti.